martedì 31 ottobre san quintino martire è il 304esimo giorno all'inizio dell'anno ne mancano 61 al termine il sole sorge le 6 48 tramonta le 17 la luna si leva le 18 26 tramonta le 9 e 59 muore a modena l'architetto girolamo friggi medica padovano progettò la sontuosa villa pisani di stra lungo il brenta la chiesa di san gaetano a vicenza e il palazzo friggi medica rovigo portò anche a compimento il fastuoso palazzo pisani a venezia 7 del conservatorio musicale benedetto marcello le previsioni per domani iniziali foschie e nebbi in pianura e in qualche fondo valle in progressivo dissolvimento lasceranno spazio ad una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di deboli precipitazioni intermittenti a partire da ovest in graduale estensione verso est tendenza di radamento delle precipitazioni verso fine giornata su settori occidentali limitate la neve oltre i 2000 metri temperature minime in calo massime senza notevoli variazioni o il locale diminuzione